Mi chiamo Bernardo Bianchi e sono il direttore dell'azienda Colle Bereto. Colle Bereto è stato acquistato dalla famiglia Pinsauti, che sono fiorentini, 42 anni fa. Lorenzo è figlio di un agricoltore che, diciamo, a 50 anni fa vendeva i propri prodotti direttamente a Firenze. Quindi quello che oggi è chiamato in tutto il mondo Farm to Table veniva fatto 50 anni fa in un piccolo appezzamento e questa famiglia, 42 anni fa, ha avuto la fortuna e anche la possibilità di acquistare questa azienda a Radda e quindi di portare più in grande questa idea che già facevano tanti anni fa. Il mio vino preferito è sicuramente il Chianti Classico Gran Selezione perché proviene da una vigna che in questi 23 anni in cui ho lavorato a Colle Bereto abbiamo avuto la possibilità di fare sempre delle uve un pochino più interessanti, un vino sempre molto elegante.